Ciao a tutti, mi presento, sono Federico Russo. Cosa c'è? Sentite qualcosa di strano? Beh, sono io davvero, adesso ve lo dimostro. Mi riconoscete dalla faccia, ma soprattutto dal mio accento romano. Au, taglie, la chitarra, il sorcio, il gatto... No, stop, fermi, fermi, fermi un attimo, vieni qua, forza. Non sono tre anni che ci conosciamo. Eh, vabbè, in cosa ho sbagliato? Prima di tutto, il braccio. Ah, il braccio, è vero. E poi, la spinta che è importantissima, che poi ne fuori è, daglie, cacio e pepe, amatriciana, daglie, gicco, ser meglio, vai? Daglie, gicco, ser meglio, agarbonara, amatriciana? E daglie.